pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati siamo giunti alla 32esima domenica del tempo ordinario quasi alla fine dell'anno liturgico e infatti la liturgia si fa guardare alle cose ultime nello specifico ci fa preparare svegliare in vista dell'incontro definitivo con dio nell'ora di sorella morte ecco abbiamo questa parabola delle dieci vergini che ha come sottofondo l'immagine delle nozze un'immagine meravigliosa un'immagine che nell'antico testamento è spesso utilizzata proprio per dipingere il rapporto di dio con l'uomo ecco questa immagine così bella fa da sfondo questa parabola in cui gesù ci dice che il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che prese le loro fiaccole uscirono per l'incontro con lo sposo abbiamo dieci vergini che rappresentano la totalità tutti noi di queste dieci vergini cinque sono stolte e cinque sagge le stolte non prendono colori vasi dell'olio le sagge si beh cerchiamo di capire un po chi sono e chi non sono perché qua ci possiamo essere tutti nel vangelo secondo matteo questi due termini ritroviamo al capitolo 7 al termine del discorso della montagna ci parla dell'uomo stolte saggio che sono quelli che costruiscono lo stolto costruisce la sua casa sulla sabbia e crolla il saggio sulla roccia quando gesù spiega che significa dice che il saggio è colui che ascolta le sue parole e le mette in pratica quindi che l'ascolta che le fa sue che le interiorizza e le trasforma in azione lo stolte chi le sente ma chi e poi non le mette in pratica a questo punto l'olio cosa può essere se il saggio e chi ascolta e mette in pratica i vasetti che vengono riempiti sono i vasetti delle parole messe in pratica di gesù sono i vasetti del sia fatta la tua volontà nella tradizione giudaica si identificava l'olio come le opere giuste che fanno sfavillare la lampada della fede quindi sono i nostri sì alla volontà di dio sono i tanti piccoli sì di ogni giorno che siamo chiamati a dire a dio per fare bene la nostra missione ogni azione diceva un bravo biblista compiuta sotto l'influsso dello spirito santo è un'azione d'amore divina ed eterna questo è l'olio l'olio dell'amore l'olio delle opere fatte in comunione con dio l'olio della carità viceversa il non avere l'olio vuol dire il non aver fatto ciò a cui io sono chiamato il non aver amato e l'aver detto di no poiché lo sposo tardava tutte quante si assopirono e si addormentarono ecco vedete questo ci dice che lo sposo a volte tarda che dio ha i suoi tempi e rischia di addormentarci c'è per tutti ma questo in particolare ci vuole dire che dio arriva quando non te l'aspetti ecco una cosa importante questa parola l'ha vissuta anche la chiesa primitiva che attendeva il ritorno imminente di gesù eppure non è ancora ritornato a volte si sente gente dire ma è a quello ma perché il signore lo lascia qui con tutto il male che fa vedete il signore ci dà tempo e questo tempo che ci dà il tempo di misericordia è il tempo in cui ci dà l'occasione di cambiare di ritornare di crescere di maturare è tempo di grazia allora questo ritardo apparente che non ci deve portare a scoraggiarsi a far finta che la morte non arrivi mai che dio non ci vuole no ognuno ha un percorso ma questo ci dice anche che i tempi di dio non sono i nostri ed è una chiamata a vivere bene il nostro tempo perché vedete oggi le occasioni che abbiamo non le avremo più domani ci sono delle cose che io sono chiamato a fare oggi se non le faccio oggi le perderò se non aiuto oggi la persona che ha bisogno probabilmente domani non avrà più bisogno avrò perso un'occasione se oggi da genitore non dedico tempo a mio figlio se da sposo non dedico quel tempo che posso alla mia famiglia passerà e non avrò più l'occasione di recuperarlo se alla fine oggi ho la possibilità di fare del bene è inutile giocare a rimando se oggi so che non sono in grazia di dio oggi sono chiamato a rimettermi in grazia non a rimandare confessione preghiera ma sì poi vado poi ci penso oggi sant'agostino diceva dio oggi ci ha assicurato la misericordia ma il domani non ce lo ha assicurato nessuno la persona saggia nella scrittura e chi sa vivere e chi sa accogliere le occasioni che la vita gli dà orientandole vivendole secondo la volontà di dio queste vergini saggia hanno tanto gli hanno detto tanti si si sono preparate a questo incontro sono state generose hanno saputo entrare nelle cose donarsila come dio gliele ha messe davanti il pericolo è pensare soprattutto noi che siamo in cammino che alla fine siamo in cammino e quindi è tutto andrà avanti automaticamente sono di senza fatica ormai c'è il posto assicurato ormai sono quelli che dicono no ma io da piccolo facevo il chirichetto ma non frequento più già ho messo i bonus da parte no non funziona così ogni giorno siamo chiamati a rideciderci a ripartire a dire i nostri sì le lampade purtroppo possono anche spegnersi noi possiamo intiepidirci addormentarci addirittura perderci quindi siamo chiamati a dire i nostri sì ogni giorno ritornando alla parabola a mezzanotte ecco il grido è arrivato lo sposo usciterli per andargli incontro allora si alzano tutte quante queste dieci che succede cinque hanno l'olio quelle senza dicono alle altre ma dateci un po del vostro olio perché le nostre fiaccole si spengono e quelle saggi gli dicono no se non ne viene a mancare per noi per voi andatevelo a comprare e uno potrebbe dire ma ma come dove carità e amore lì c'è dio queste sono saggi hanno amato dio e mogli dicono di no ma ma che cattive ma come mai ma ma dove è finita la carità vedete se noi abbiamo compreso che i vasetti d'olio sono i vasetti dei piccoli grandi sì di ogni giorno capiamo bene che le sagge non le possono dare alle stolte perché perché nessuno può dire sì al mio posto al tuo posto quello che tu sei chiamato a fare lo puoi fare solo tu non lo posso fare io io posso pregare per te e viceversa io ti posso incoraggiare viceversa ti posso dare suggerimenti viceversa sono chiamato ad aiutarti a metterti in condizione di dire i tuoi sì e ci siamo ma alla fine i tuoi sì si è chiamato a dirli tu c'è gente che a volte dice è ma io non frequento per colpa di quello perché vedo quell'altro che sbaglia perché c'è tizio caio e sempronio aspetta un giorno il signore a te chiederà ma tu cosa hai fatto nella tua vita e non potrò dire sì ma lui l'altro l'altro ancora no nessuno può dire di sì al nostro posto nessuno può chiedere la fede in prestito o contare sui meriti di un altro vedete la fede non si può dare in prestito nessuno può prendere in prestito la carità ma deve personalmente amare il bene non si può né vendere né affittare diceva il cardinale comastri quindi a certo punto lo sposo chiude la porta come a dire al termine della vita si chiudono le occasioni quando finirà con sorella morte saranno finite le occasioni che abbiamo per amare per crescere per fare del bene per ritornare a dio per metterci in grazia insomma arriva il momento in cui si tirano i conti si chiudono le porte arrivano le stolte dicono aprici signore aprici e qui delle parole che dovrebbero farci veramente tremare in senso positivo il senso di ravvedimento il signore che dice non vi conosco queste parole gesù le ha lette in un'altra parte del vangelo dove si parla dei falsi discepoli dei falsi credenti che dicono ma come signore noi abbiamo profetato nel tuo nome abbiamo mangiato con te seduto con te ma non vi conosco operatori di ingiustizia dice gesù questo non vi conosco pensate c'è uno che non ti conosce vuol dire che non hai avuto un rapporto con lui che non lo hai frequentato ma queste erano pure loro vergine avevano pure loro qualche vasetto come a dire magari qualche preghiera una tanto magari andavano pure a messa sì ma se le nostre azioni non sgorgano da un cuore unito a dio se non cerchiamo davvero la comunione con lui la sua volontà non basta lo status di appartenenza mi dico cattolico come la gente che dice no ma più cattolico di me non c'è nessuno poi né prego né fa né mi confesso né però credente come me non ce n'è ma anche credente di che in cosa non è che l'etichetta che ci salva la comunione con cristo che ci salva dovremmo aver più a cuore la nostra interiorità per le vergini che vanno senza olio il solo essere vergini non basta può essere così anche per noi avere mani pulite però sono vuote di gesti di amore veri gratuiti disinteressati che sono quei gesti che riempire i nostri vasetti e possono incoraggiare altri a riempire i loro abbiamo solo questa vita per crescere nell'amore questo ci vuole responsabilizzare per vivere in pienezza oggi e scacciare quell'apatia quell'indolenza quel gioco a rinvio ma sì poi ci penso poi ci penso ma poi quando il domani dio non ce l'ha assicurato ma solo l'oggi oggi siamo chiamati a crescere nella misura dell'amore e a servire gli altri che dio ci aiuti allora in conclusione a essere vigilanti essere svegli prepariamo i nostri vasetti prepariamoci all'incontro che chiamato siamo chiamati a vivere come l'incontro più bello di sempre pace e bene